Ma torna ragazzi, Fortunet aggiunto la nuovissima modalità Rocket Racing Dai dai dai, super carichi oggi, facciamo una classifica Come si fa? Ah, R2, per accelerare L, L, L Che significa? Lo sto capendo Mi dice di cliccare tasti, mamma mia Il turbo ti ricarica nel mio passaggio e il turbo ti mando una e viene a casa Ah, con R guardi frontale Un po' l'acqua, un pilota Nuovo aereo, un pilota airline, guardate che mi che avanza Impressionario, uso la schivata aerea Un po' l'acqua, un po' l'acqua Non ho capito No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti. Ah, ecco. Poi gli prendo un bancamento e ci posso tornare. Ah, ho capito come funziona la propulsione. Palle brutto. Allora, ora ci invita gentilmente a fare una bellissima partita, cosa che noi ovviamente ora faremo. Quindi ora andiamo. Ci vediamo una volta arrivati in partita. Sì, eccoci scesi in partita. Ah, io così vedo tutti quanti le persone. Io sono il primo. Ah, ora sono diventato l'undicesimo. Mi sono mutato. Allora, abbiamo imbarato molto tecniche. Quindi così dera pataraggio. C'è un altro dera patate e poi c'è... No, io la faccio pa 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 pa. E' il primero. Ma lui c'è nella Lambochini un urraccano. Ouh. Uuh. No, beccato, beccato. No, beccato. No, beccato. No, beccato. ora quindi ragazzi facciamo una bella curva la nera è una derapata che mi stiamo facendo the last oh è bravo eh leclerc leclerc ancora lui leclerc terzo piazzamento prossima gara facciamo un'altra uscito per arrotondare 10 minuti vedete voi se va ci vediamo una volta arrivati in gara ragazzoli eccoci secondo giro primo piazzamento ragazzi ci sono il dicesimo ho imparato le regole mi ha imparato le regole mi ha imparato le flerce buona mia la di qui oh stavo è andata male è andata male è andata male non c'è non c'è ma che ci faccio il piazzamento nooo questo non è un saldo è andata male No, 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 no. Ecco, certo, ci curva rapidissima No, sto terzo in classifica, va bene Fa benissimo lo stesso, ragazzi Cazzuoli Spero che questo video vi sia piaciuto e da caratteristico Non possiamo altro, non possiamo far altro che salutarci Quindi da Karate10 ci vediamo in un prossimo video Out